Cos'è la solidarietà? La solidarietà è aiutare chi ha bisogno. La solidarietà è aiuto materiale e morale tra le persone di una collettività. La grande ricchezza dell'umanità risiede nella solidarietà. Vi aspettiamo domenica 4 febbraio per la giornata della solidarietà. Vi invitiamo a regalare un sorriso e speranza per chi ne ha bisogno.